Buongiorno a tutti, sono sempre Vittor Laslo88, vi ricordo che in questo video trovate il link che vi riporta alla home page del sito v.pumpling.com dove trovate un sacco di magliette, felpe, zaini e altri prodotti a tema nerd veramente interessanti come la maglietta che indosso, che trovate linkata in descrizione. Se vi interessa avere questa maglietta o altri prodotti dal sito, vi basta usare il mio codice di sconto VLASLO in fase di acquisto che vi dà il 20% di sconto per acquisti inferiori a 50€, se invece fate acquisti superiori a 50€ usate il codice POWER25 che vi dà il 25% di sconto ma tanto lo sapete già. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito con l'argomento di oggi. Allora, oggi è stato rilasciato il nuovo trailer sul film riguardante Sonic the Hedgehog. Allora, sapete perfettamente che il trailer era già stato diffuso mesi fa, ma hanno dovuto lavorare di nuovo da zero sul personaggio di Sonic. Perché, se vi ricordate, nel primo trailer lui aveva un aspetto che era terrificante, era semplicemente spaventoso, davvero. Una cosa inguardabile, perché volevano differenziarlo rispetto al videogioco e allora io mi chiedo perché stai realizzando il film. Sì, è vero, con pellicola di questo tipo si vuole raggiungere un pubblico molto ampio che non si limita a quello dei fan. Ma diciamo che sono film che vengono realizzati anche per i fan e i fan non erano contenti. Lo stesso creatore del personaggio si era spesso su Twitter in maniera poco lusinghiera e io capisco il voler differenziare il character design del personaggio da quello del videogioco per renderlo leggermente diverso ma quello sembrava seriamente un tizio che aveva squartato un porco spinolo, l'aveva dipinto di blu e si era messo in opera per indossare quella pelle. Cioè, davvero, io ero allibito, ma poi anche coloro che non conoscevano bene il personaggio non lo avevano apprezzato. E allora, che cosa è successo? La produzione e il regista avevano capito che così non poteva funzionare e si sono presi del tempo posticipando il film che doveva uscire questo mese a novembre, a febbraio, per poter fare le cose come si deve. Il 3 era uscito, non faccio la reaction perché non sapevo se fare questo video, quindi me lo sono guardato per conto mio e di fare una reaction fasulla francamente non avevo voglia perché non mi sembrava il caso, quindi ne parlo in maniera normale. Per cui, questo nuovo concept design, questo character design del personaggio è fantastico, mi è piaciuto da morire, davvero, perché è sì diverso da quello del videogioco, ma è comunque simile, molto cartunesco, non hanno cercato di umanizzarlo troppo perché quello precedente era, è troppo umanizzato, con gli occhi troppo lontani, i denti umani, era una cosa veramente, quando urlava nel momento in cui entrare il personaggio di James Marsden, io ho pensato, Cristo santo, questa cosa popolerà per mesi i miei incubi e così di fatto è stato. Quindi non capisco neanche come avessero potuto pensare che si trattasse di una buona idea. Cioè, quando chi di dovere ha visto che cosa avevano preparato avrebbe dovuto dire, no, ci ammazzeranno, non possiamo uscire con il film e far avere a Sonic questo aspetto. Cioè, come hanno potuto pensare che la gente sarebbe piaciuto? Ecco, quello che però mi ha colpito non è solo il fatto che il personaggio sia effettivamente migliorato da un punto di vista visivo, ma anche il trailer ha un ritmo decisamente maggiore, è molto meglio rispetto al primo che pure non mi era dispiaciuto. L'ho trovato più simpatico, il ritmo e i tempi comici erano decisamente più adatti e allora mi sono chiesto se per caso non abbiano anche riscritto e rigirato alcune parti perché è molto diverso rispetto a quello che avevamo visto. Sarà anche che il fatto che il personaggio sia cambiato fa molto, alcune scene sono identiche, ma altre sono proprio inedite che non si erano ancora viste e non mi sono dispiaciute. E hanno anche fatto tesoro dell'entusiasmo riservato da parte del pubblico al dottor Ivor Robotnik, interpretato da Jim Carrey e infatti moltissime scene vertono su di lui, molto più rispetto a quelle che c'erano nel primo trailer. Per cui a me fa piacere che abbiano capito cosa voleva il pubblico e gli abbiano dato, infatti i commenti in rete sono molto positivi. Da qui però c'è da fare una riflessione. Fondamentalmente questo accorgimento che hanno voluto prendere produttore e regista è giusto perché molti dicono il pubblico non dovrebbe mai avere potere su chi produce i contenuti. Ed è effettivamente vero, però è anche vero che il film lo realizzano per il pubblico e se il pubblico fin dal trailer non ha dato un giudizio positivo per qualcosa che avrebbero dovuto ragionare, su cui avrebbero dovuto ragionare prima, forse in questo specifico caso è giusto che abbiano deciso di posticipare il film e lavorarci sopra meglio perché è evidente che avevano preso delle scelte molto sbagliate. Io vi giuro ci sono dei pezzi in questo trailer in cui sono, non dico morto da ridere, ma mi sono divertito tantissimo. Lui funziona molto di più, è il Sonic che conosciamo, non è quel Sonic troppo alto e troppo umanizzato che avevamo visto in precedenza. Quello non è la Sonic, mi dispiace. Se io vedo quel coso non penso wow, è esattamente quello che mi aspetterei da un film su Sonic. No, penso, ma che cazzo gli è venuto in mente? Perché hanno fatto una cosa del genere? Quindi in questo caso, secondo il mio modesto punto di vista, non hanno effettivamente sbagliato a dare retta al pubblico perché il film rischiava di essere un disastro annunciato mesi prima che uscisse. Quindi va bene, se si tratta di cose come petizioni per rigirare l'ottava stagione di Game of Thrones, allora vi do ragione, forse il pubblico non dovrebbe avere quel tipo di potere. Però si è creato effettivamente un precedente, quindi adesso il film è stato rigirato in parte, il personaggio è stato cambiato da un punto di vista estetico e allora il pubblico potrebbe pensare beh, ma quando non ci piace qualcosa facciamo casino. Sta ai produttori capire quando bisogna dare retta al pubblico. In quel caso, nello specifico, sarebbe stato folle non dare retta alle persone a cui il film era rivolto, ma perché lì era proprio palese che avessero toppato. Non ci voleva un esperto o un genio per capirlo. E questo qualcuno, quando ho riportato la notizia sulla mia pagina, quando ho linkato il trailer, ha scritto il punto è che qui non si tratta di essere esperti o essere graphic designer per capire che il personaggio non andava bene. Non ci volevano particolari e specifiche competenze per altre cose che il pubblico chiede, magari in altri casi sì. Quindi questo forse è uno dei pochissimi casi in cui credo che abbiano fatto veramente bene a capire che non era assolutamente il caso di fregarsene, ma si sarebbe dovuto prendere un minimo di provvedimenti. Infatti così è stato. Sono stato molto contento del fatto che abbiano capito e vedremo poi come sarà il film. Da quello che ho visto nel trailer, a me sembra veramente carino. Funziona di più rispetto a quanto avevano già visto, per cui 10 più, nel senso che hanno fatto bene, hanno capito dove hanno sbagliato e hanno inserito le modifiche che andavano inserite. Quindi in questo caso credo che ci fosse bisogno di qualche provvedimento in più. Poi la questione è molto ampia ed è anche difficile dibatterla in un solo video perché ci sono tanti altri casi in cui il pubblico non dovrebbe avere questo tipo di potere. Speriamo che questo precedente non crei una sorta di rivolta del pubblico sul web per quanto riguarda i cambiamenti magari a volte anche astrusi che vogliono a certe opere. Fatemi sapere voi in un commento qui sotto che cosa ne pensate. Io posso solo dirvi che non vedo la rivela del film anche solo per Jim Carrey che adoro e che qui mi sembra veramente in forma. Forse è un po' sopra le righe ma di fatto il personaggio richiede un'interpretazione sopra le righe. Quindi io spero solo che non sia troppo per bambini ma non credo perché penso abbiano pensato anche i fan più adulti e sono molto di più rispetto ai bambini però hanno pensato anche a un pubblico più giovane che magari non conosce il personaggio e che grazie a questo film arriverà magari ad avere voglia di giocare gli ultimi titoli riguardanti Sonic. Ed è una cosa che secondo me è interessante. Poi è ovvio che questo film viene realizzato sulla scia del successo di Detective Pikachu che era andato molto bene. Era un po' il film che tutti i fan di Pokémon volevano. Così come questo teoricamente dovrebbe essere il film che i fan di Sonic hanno sempre voluto ed è per questo che hanno capito che se il film doveva essere una cosa del genere i fan di Sonic avrebbero dovuto essere quantomeno soddisfatti. E quindi eccoci qua. Per cui questo è quello che pensavo circa il trailer che a me ha molto divertito. Io vi abbraccio. Grazie tanto ma tanto ma tanto bene. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.